guarda non si muove neanche con la spalla neanche con le spalle muove impennata bravo Walter firma firma fai Giovanna si si se poi non ce la fai non spingere troppo dai dai dove hai fatto la guida va a fare questo movimento qui sono legamenti tu abbia fatto una roba qui dai va a farlo non spingere fai 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 sì bravo ma vieni ma chi sei te? dopo vengo su eh? si tranquillo ma chi sei te? 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 ma chi sei? ma chi? ma chi sei te?